Le autorità russe hanno dichiarato che tre droni ucraini hanno attaccato Mosca nelle prime ore di domenica, afferendo una persona e provocando la chiusura temporanea dello spazio aereo sopra la città e del traffico di uno dei suoi quattro aeroporti. Si è trattato del quarto tentativo di attacco alla capitale russa in questo mese e del terzo in questa settimana. Uno dei droni è stato abbattuto nella regione di Mosca, fa sapere il Ministero della Difesa, mentre gli altri due sono stati intercettati e si sono schiantati nel quartiere degli affari della città, danneggiando lievemente due edifici.